Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo ad implementare uno script in Python, questo main.py E che cosa fa questo script in Python? Andiamolo a vedere. Ho attivato il mio ambiente con .vm bin activate è un ambiente virtuale in Python e ho già fatto un video sul canale su come gestisco gli ambienti in Python quindi adesso abbiamo tutte le dipendenze e possiamo fare un python3 main.py per vedere cosa andremo ad implementare in questo video. Lo lanciamo e otteniamo questo risultato. Questa è una simulazione estremamente imprecisa, ma poi ritornerò su questo punto sul moto dei pianeti di una parte del sistema solare. In particolare qui abbiamo fondamentalmente il Sole con 1, 2, 3 e 4, 4 pianeti dove questa qui è la Terra, questa è Marte eccetera, quindi sono solo 4 pianeti. Ora, precisazioni, quindi in questo video andremo ad implementare questo tipo di moto andando ad implementare le leggi gravitazionali scoperte da Newton, quindi la legge di Newton. Ci sono una serie di precisazioni da fare che è molto importante. Questo video ovviamente non è solo di programmazione, ma mischia la programmazione con la fisica. Detto questo, questo tipo di simulazione non vuole essere realistica, cioè non lo è palesemente. Per esempio, giusto per fare un esempio, il size, ovvero la dimensione dei pianeti, non è assolutamente in scala perché il Sole è tremendamente più grande degli altri pianeti e i pianeti tra loro non sono... la scala che vediamo non è corretta. Le orbite penso che ci siano degli errori o comunque non è perfetto. La mia intenzione non è ovviamente di renderlo perfetto. Questi giorni mi sono un po' messo a leggere anche come si fanno delle simulazioni scientifiche di questo tipo di situazioni, in cui abbiamo n oggetti che sono attratti gravitazionalmente tra loro. Però questo non è lo scopo di questo video. Questo video è più per divertimento e più per fare qualche esperimento con Python. In particolare andremo a utilizzare la libreria ReLib, che ho già fatto vedere in un altro video in cui andavamo ad implementare il Sudoku. Questa volta però ReLib utilizzeremo Python, quindi utilizzeremo dei Python Binding per ReLib. E niente, quindi spero che sia interessante. Ripeto, ulteriore disclaimer, non è una cosa scientificamente accurata, è giusto per divertimento. Se poi però avete dei suggerimenti su come posso migliorare l'accuratezza scientifica di questa simulazione, scrivetemelo pure nei commenti perché sono molto molto interessato. Alla fine del video io stesso darò qualche dritta, qualche strada, per chi vuole magari prendere questo codice e renderlo ancora più preciso. Ci sono tante cose che uno può fare. Recentemente appunto stavo studiando varie ottimizzazioni e varie possibili strategie per renderlo ancora migliore, che magari menzionerò alla fine del video, quando abbiamo implementato questo tipo di simulazione. E niente, spero che sia interessante, spero che sia stimolante e buona visione. Quindi il codice finale con cui lavoreremo fondamentalmente è il seguente. Sono 160 righe di codice. Ripeto, ovviamente non è accurato, però non è tanto codice. E fondamentalmente il calcolo della legge gravitazionale di Newton è in questa Compute GeForce Vector. Quindi qui calcoliamo il vettore che, diciamo, esprime la forza gravitazionale. Poi andremo un po' anche a discutere di fisica, anche se, ripeto, non è che vuole essere un video azzeccato sulla fisica, anche perché io stesso di fisica non ne capisco tanto, non ne capisco quasi nulla essenzialmente. Era giusto per, diciamo, divertirmi un pochino programmando. E niente, quindi questo è implementato in Relib. Ovviamente ho già fatto un video su Relib, ma giusto per fare un piccolo ripasso, noi possiamo andare su Relib. In particolare c'è l'installazione sul sistema Linux, per esempio su Arch Linux. Dobbiamo fare il clone. Entriamo nella cartella. Facciamo il make per creare la versione statica, che è quella che utilizzo io. E poi facciamo il make install, sudo make install. Installiamo la libreria. A questo punto, però, per lavorare in Python c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. E possiamo eliminare l'ambiente che ho creato. Facciamo new main, che sarà il nostro nuovo main, fondamentalmente. New main. E per utilizzare Relib tramite Python dobbiamo prima scaricarlo. Quindi il primo step sarà quello di crearci un Python environment, con python3-mvmvmv. Avevo già fatto un video su come funziona questa cosa, quindi per chi è interessato se lo può andare a recuperare. Andiamo ad attivare l'ambiente con .vmvmv. A questo punto la scelta è cambiata, perché abbiamo attivato l'ambiente Python e l'unico pacchetto che dobbiamo installare è pip3 install relib, fondamentalmente. Io faccio relib, qui faccio il collect, e qui posso fare import from. Mi sembra che era from. Andiamo a vedere il codice. From pyray import tutto quanto. E se io adesso faccio if name uguale uguale main, e proviamo a farci spawnare una finestra molto molto semplice, tipo un init window, faccio un init window, e poi faccio un close window alla fine. Senza... quindi faccio così. E poi faccio il while loop, quindi while not window should close, finché la finestra non si deve chiudere. Facciamo un begin drawing, clear, e poi facciamo un end drawing. E questo semplicemente spawn una finestra e la colora di nero, finché non la chiudiamo. Quindi facciamo python3 new main. Abbiamo screen width is not defined, ovviamente, perché non abbiamo definito le variabili che specificano la grandezza della nostra finestra. E abbiamo la nostra finestra nera. Quindi setup di relib, nel video che ho fatto invece in C, che ho implementato su doku, sono entrate un po' più in dettaglio in queste cose, ma fondamentalmente sono operazioni base di inizializzazione della finestra, in cui mettiamo la width e la height, ovvero quanto è, diciamo, alta e quanto è ampia. E poi mettiamo il nome della finestra, geforce simulation, gravitational force simulation. Spostiamo la finestra perché io ho due schermi. Quindi questo è lo spostamento fondamentalmente verso destra e questo è lo spostamento verso il basso. E quindi abbiamo questa situazione. Se io lo voglio spostare un po' più verso destra, faccio 2300 e mi viene ancora di più verso destra. Un pochino più verso il basso, faccio 100 ed ancora un po' più verso il basso. Facciamo il target FPS a 30. Vuol dire che in ogni, diciamo, secondo ci saranno 30 frame e il frame fondamentalmente è l'esecuzione di questo while. Nel while iniziamo a, diciamo, scrivere sulla nostra finestra, begin drawing. Facciamo un clear background, lo riempiamo semplicemente di nero e facciamo land drawing. Quindi tutto questo è la parte di drawing. Ovviamente adesso la parte che dobbiamo implementare è la parte di logica, che è la parte principale della simulazione, perché per il resto è tutto nero e non ci sono altri oggetti interessanti. Ora, arrivati a questo punto, per andare avanti dobbiamo iniziare a definire le entità che devono entrare in gioco in questa simulazione e dobbiamo strutturare come vogliamo rappresentare queste entità nella nostra simulazione. Ovvero, tra tutte le possibili proprietà che queste entità possono avere, dobbiamo scegliere solo quelle che ci interessano a noi, che ci interessano, ripeto, ai fini della simulazione. E dato che noi vogliamo simulare l'effetto che la gravità ha sul moto dei pianeti, quali sono le proprietà di interesse? Bene, sicuramente gli oggetti di cui stiamo parlando sono il Sole e i vari pianeti. Bene, dal nostro punto di vista in realtà non c'è differenza tra Sole e pianeti, sono semplicemente n oggetti che interagiscono tra loro tramite la gravità. Il fatto poi che il Sole abbia una massa estremamente più grande di tutti gli altri e quindi la sua gravità è molto più forte di tutti gli altri è un qualcosa che non ci interessa distinguere Sole tra altri pianeti. Per noi tutti gli oggetti sono uguali. Ora, di questi oggetti, quali proprietà ci interessano? Quali proprietà vogliamo catturare? Bene, tra queste abbiamo sicuramente la massa, come ho detto, massa. E perché ci interessa la massa? Perché Newton, intorno al 1600, ha scoperto una legge matematica molto semplice che però permette di spiegare il fenomeno che noi tutti percepiamo che è la gravità. Ovvero, il fatto che noi siamo attratti dal centro del nostro pianeta è la stessa forza che fa girare la Terra intorno al Sole. Ebbene, questa forza, la forza gravitazionale scoperta da Newton, agisce rispetto alla massa degli oggetti. Ovvero, fondamentalmente, poi lo spiegherò più in dettaglio andando avanti nel video, per una forza che esiste tra ogni coppia di oggetti e il modo in cui questa forza agisce, per calcolarla, il valore di questa forza, dobbiamo sapere la massa di entrambi gli oggetti che stiamo considerando. Quindi la massa è una cosa fondamentale. Le due altre cose che ci servono per poter calcolare il modo di questi pianeti, ovviamente, che cos'è? È la posizione, la posizione di questi vari oggetti, position, e la velocity, ovvero la velocità. Una volta che abbiamo queste tre quantità per ogni oggetto, possiamo utilizzare le leggi di Newton per andare a capire come questi oggetti si influenzano tramite la gravità. Dopodiché, quindi queste tre sono ai fini della simulazione fisica, tra virgolette, che, ripeto, non è precisa. Se avete, diciamo, ulteriori miglioramenti, scrivetelo pure nei commenti. E se dico qualcosa di impreciso a livello fisico, scrivetelo pure nei commenti, perché io non sono un fisico, quindi in questo sono ignorante. Ora, dal punto di vista però della simulazione e di come renderizzare queste cose a schermo, ci servono altre cose. Un'altra cosa che ci serve è il radius, che sarebbe fondamentalmente quanto grandi appaiono queste sfere. Ripeto che, per esempio, il raggio di queste sfere non è in scala. Il raggio non è in scala, che vuol dire che il Sole sarebbe tremendamente più grande della Terra. Ed è molto difficile mettere in scala le grandezze astronomiche, proprio per la differenza che esiste nell'universo. Quindi simularle su un computer diventa molto, molto difficile. Però sicuramente il raggio è un qualcosa che graficamente può essere carino per dire ok, il Sole lo faccio un po' più grande. Un'altra cosa graficamente carina è il colore. Per dire, magari il Sole lo faccio giallo, la Terra la faccio blu, eccetera. E poi un'altra cosa ancora potrebbe essere un label di text per dire questo è il Sole, eccetera. Quindi label. Quindi andiamo a implementare tutto questo tramite una classe in Python. Quindi chiamerò object e definirò l'init, il metodo init, per andare a inizializzare gli oggetti di questa classe. Quindi abbiamo Mass, Position, Velocity, Radius, Color e Label. E qui fondamentalmente semplicemente assegno tutte queste cose. Quindi faccio così, poi faccio Position, poi faccio Velocity, poi faccio Radius, poi faccio Color e poi faccio Label. E diciamo che questo ci basta, poi uno ovviamente può estendere questa classe in vari modi. Per adesso ci interessa questa roba in particolare. E quindi a partire da questa struttura di dati possiamo iniziare a creare i nostri vari oggetti, di cui il primo sarà il Sole. Ora il Sole è un oggetto. Questo oggetto ha una massa, una posizione, una velocità, un raggio, un colore e un label. Allora per quanto riguarda il colore lo mettiamo yellow, il label lo mettiamo sun, poi vado di fondamentalmente il raggio, metterò che è un raggio di 32, 32 pixel, poi metterò che la velocità sarà 0, quindi avrà una velocità di 0 al centro fondamentalmente della simulazione, cosa che non è vera ad esempio perché in realtà il Sole si muove come si muovono i pianeti all'interno dello spazio, all'interno dell'universo. Quindi questo è giusto un esempio, molto approssimato. La posizione lo metterò appunto che sta nella posizione 0,0, quindi 0,0. E quindi l'ultima cosa che ci manca da definire è la massa. Quindi la massa è da definire. Da notare che per specificare posizione e velocità ho utilizzato questa keyword vector2 con 0,0. Perché qui stiamo facendo una simulazione a due dimensioni e quindi rappresentiamo le cose con dei vettori, con dei componenti. 0,0. Che nello spazio cartesiano tipicamente che cosa abbiamo? Abbiamo una coordinata che potrebbe essere X e una coordinata Y. 0,0 è il punto di origine e questo sarà il centro della mia simulazione. Perfetto. E ovviamente però poi per trasformare questo e per fare in modo che il Sole appaia è al centro dello schermo. Dovrò fare una piccola trasformazione alle coordinate perché ricordiamoci che in Raylib le coordinate iniziano che 0,0 rappresenta questo punto. Io però prenderò tutti questi punti e farò una trasformazione in modo tale che il punto 0,0 il pianeta con il vettore 0,0 poi andrà al centro. Però mi serve lavorare in questo modo perché poi rende più semplici i calcoli. Quindi voglio lavorare in questo modo. Per quanto riguarda la massa il valore che ho trovato facendo una ricerca su Google è questo valore. Quindi è 1.989 per 10 alla 30 chilogrammi. Quindi per scrivere 10 alla 30 possiamo fare o 10 per per 30 oppure possiamo utilizzare la notazione scientifica che sarebbe E 1 per E alla 30 e se andiamo a vedere che cosa abbiamo? Abbiamo che se facciamo così otteniamo allora questo è fondamentalmente così questa è la notazione scientifica e questa è la notazione scientifica quando scriviamo E 1 E alla 30 stiamo dicendo 10 all'esponente perché questo sarebbe questo E alla 30 sarebbe 10 alla 30 quindi lo scriviamo in questo modo oppure scriviamo 1.989 per 10 per per alla 30 questo per per sta intendendo che noi non facciamo 10 per 30 non facciamo questo facciamo 10 alla 30 significa 1 0 seguito da sarebbe un 1 seguito da 30 0 che sono tanti perché ovviamente questa massa è molto molto grande quindi noi che facciamo facciamo questa roba magari se io lo rappresento come stringa no se lo rappresento come stringa così non funziona così neanche non mi fa vedere di utilizzare comunque un numero molto molto grande e lo possiamo scrivere ripeto il modo corretto è questo modo ed è utile separare questa parte decimale dalla parte dell'esponente così dividiamo le due cose e questa poi ha a che fare con il modo in cui i numeri decimali si rappresentano all'interno di un computer e con questo abbiamo definito il sole per quanto riguarda invece i pianeti i dati li ho ottenuti da questo sito della nasa questo qui fondamentalmente ora lo copio e lo incollo qui e se noi andiamo con un browser qui fondamentalmente quindi abbiamo questo planetary fact sheet metric e qui ci sono tutti i dati che ci permettono di prendere i dati di mercury venus earth mars quindi noi ci fermiamo a marte e poi parleremo del perché non andiamo a rappresentare tutti i pianeti dopo marte ma fondamentalmente che sono troppo distanti da tutto il resto e quindi non c'entrano in un singolo schermo e quindi fondamentalmente adesso possiamo iniziare mettendo soltanto due magari mettiamo soltanto la terra quindi mettiamo soltanto la terra poi cominciamo a visualizzare le cose e poi continuiamo alla fine metteremo tutti gli altri pianeti per terminare la simulazione e quindi adesso iniziamo continuiamo mettendo i dati della terra ora per quanto riguarda i parametri della terra avremmo una cosa simile in cui dovremo mettere massa posizione velocità raggio colore e label quindi iniziamo dalla fine dalle cose più semplici label mettiamo earth per dire terra il colore mettiamo blu per dire che è blu il raggio mettiamolo a 17 che ripeto non sarà assolutamente in scala perché la terra è estremamente più piccola del sole e se dovremmo fare le cose in scala la terra sarebbe un pixel ma neanche un pixel e il sole sarebbe enorme quindi una cosa del genere per questo non può essere fatto in scala in modo significativo in modo comprensivo a livello visuale quindi poi pensiamo alla massa alla posizione e alla velocità allora per quanto riguarda la massa possiamo entrare direttamente qui e abbiamo la massa della terra quindi earth mass abbiamo questo 5.97 che sono chilogrammi quindi 10 alla 24 chilogrammi quindi facciamo fondamentalmente 5.97 per 1 alla 24 e questa è la massa della terra perfetto a questo punto entra in gioco la posizione la posizione rispetto al sole allora come abbiamo detto noi metteremo il sole al centro della nostra simulazione il sole sarà al centro la terra quindi come la vogliamo la vogliamo un po' spostata verso sinistra così che la terra sia un po' a sinistra ora la distanza tra il sole e la terra in astrofisica in astronomia è una unità di misura specifica che è chiamata astronomical unit quindi fondamentalmente si scrive astronomical unit si abbrevia con AU e questa AU come è definita bene fondamentalmente è definita da se vado a vedere distance from sun la terra è 149.6 quindi 149.6 che però sono parliamo di 10 alla sesta chilometri quindi 10 alla sesta chilometri quindi facciamo E alla 6 per dire questo sono i chilometri è la distanza tra la terra e il sole espresso in forma di chilometri che sarebbe 149.6 per 10 alla sesta io però la voglio esprimere in metri e quindi devo moltificare per 1000 e avrei pure potuto scrivere 10 alla 6 alla 9 però voglio esprimere il fatto che sto moltiplicando per 1000 per dire distance between earth and sun in meters perfetto quindi questa è la mia astronomica unit in particolare dove voglio posizionare la terra la voglio posizionare come meno 1 per au perché meno 1 così che la prima coordinata di questo vettore ricordiamo che sono le x quindi nella mia griglia io che cosa avrò avrò che questo è controllato dal valore delle x e questo è controllato dal valore delle y il sole sta a centro se io faccio meno 1 per au facendo meno sono andando a sinistra quindi avrò la terra qui quindi questa sarà la terra earth e questo sarà il sole sun e quindi avrò questo tipo di orbita perfetto per quanto riguarda la velocità non la voglio inserire però sarà molto importante da inserirla quindi per adesso qui metterò un to do add velocity ora ripeto quindi la velocità la mettiamo dopo però la velocità sarà fondamentale la mettere perché quello che vedremo successivamente è che nel momento in cui io implemento la forza di gravità la terra senza velocità se non ha velocità sarebbe soltanto attratta dal sole fino fondamentalmente ad andargli addosso e poi io nella simulazione non gestisco le collisioni e quindi poi la simulazione si rompe quindi che vuol dire vuol dire che il fatto che la terra gira intorno al sole non è solo determinata dalla forza di gravità ma è determinata anche dal fatto che quando la terra ha sentito quella attrazione gravitazionale aveva una certa velocità specialmente nell'asse delle y e questa velocità ha permesso alla terra di stare in un'orbita stabile altrimenti andavamo diretti verso il sole eccetera quindi la velocità è fondamentale per avere delle orbite stabili però ripeto questo lo metteremo dopo perché per adesso è meglio lasciarlo così quindi a questo punto io ho sun e dirt posso dire fondamentalmente objects mi faccio una lista di oggetti e ho il sole e la terra perfetto e questa è la mia lista di oggetti che andrò ad aggiornare man mano perché devo mettere anche gli altri pianeti però per adesso mettiamo soltanto questi due e pensiamo alla visualizzazione quindi allora che cosa facciamo in realtà nello scheletro della nostra simulazione noi avremo che questi oggetti saranno aggiornati update geforce objects geforce quindi avrò una funzione che andrà a modificare la posizione anzi potremmo dire step step simulation oppure step simulation geforce per dire fammi uno step nella simulazione della forza di gravità vuol dire che questa funzione prende un insieme di oggetti e qua devo mettere un bel to do apply gravitational force by newton to all objects and update position and velocity quindi devo calcolarmi la forza di gravità tra tutti gli oggetti aggiornare le varie velocità e aggiornare di conseguenza le varie posizioni in questo caso dato che ancora la devo diciamo scrivere posso semplicemente ritornare la lista di oggetti quindi non la modifico in futuro ovviamente la dovrò modificare quindi faccio così tra l'altro un'altra cosa che possiamo fare qui è definire tutto in una funzione main quindi mi prendo tutto questo codice che ho scritto e lo metto in main e qua metto soltanto un bel main così che è più chiaro che è una funzione di entry point main e anche con le variabili globali dovrei stare a posto perfetto qui definisco per leggerle in modo chiaro che au è una variabile globale ma non solo au anche screen width e screen height queste cose funzionano molto per la leggibilità non sono necessarie per far funzionare il programma ma noi vogliamo un programma che non solo funzioni ma che sia anche il più possibile in modo che sia anche comprensibile che possa essere letto da chiunque senza troppo sforzo non dobbiamo rendere più difficile leggere il nostro programma quindi queste sono le nostre variabili globali con la nostra classe oggetto perfetto quindi questo poi lo implementeremo più tardi non ci interessa quindi nel main loop del nostro simulazione noi avremo questo step che andrà ad applicare la forza di gravità e a questo punto abbiamo una serie di nuovi oggetti una volta che abbiamo gli oggetti dovremo fare due cose fondamentalmente che sono render objects direi render objects e quindi gli do l'object perfetto e poi qui devo mettere un tuto per dire render path perché poi dovremmo anche gestire le orbite che tipicamente cioè che all'inizio non le gestiremo cioè con le orbite che cosa sto intendendo sto intendendo fondamentalmente che noi dovremmo disegnare l'orbita percorsa dai vari pianeti all'inizio però ci preoccuperemo di disegnare soltanto i pianeti che si muovono in accordo alla legge di Newton quindi poi questo lo facciamo dopo per quanto riguarda il render objects questo lo possiamo fare già da adesso perché? perché sono funzioni di renderizzazione quindi le definisco qui io ho una serie di oggetti e mi definisco questa funzione render objects allora la funzione è molto semplice che cosa devo fare? devo fare un bel for loop e mi devo iterare tutti questi oggetti for obj in objects faccio un for loop a questo punto posso accedere alle proprietà dell'oggetto e quando ho un oggetto per accedere alle proprietà posso fare nome oggetto punto nome proprietà in particolare le cose a cui devo accedere per renderizzare il pianeta l'oggetto in generale che può essere o il sole o uno dei pianeti devo prendermi le posizioni perché nella qui ho detto che un pianeta ha una posizione e poi quando l'ho definito la posizione è definita da un vettore di due coordinate che sono la coordinata x e la coordinata y e io per accedere a queste coordinate posso fare x uguale obj.position.x e y obj.position.y adesso io posso chiamare la funzione di raylib draw circle e posso dire xy e poi metto il raggio e il raggio lo accedo con obj.radius e poi metto il colore obj.color obj.color quindi faccio così se io faccio così cosa succederà? io adesso devo chiamare il nuovo programma new main e lui fondamentalmente mi fa un integer is required forse perché ho qui che cosa faccio forse devo dire int int per questo no perché allora io faccio draw circle print x print y lui mi dice che deve avere un intero e però questo intero è meno qualcosa perfetto ah giusto perché perché queste posizioni sono calcolate allora la posizione del sole è 0 0 ma la posizione della terra è un numero enorme è questo meno questo numero che è molto molto grande meno questo per au ora che sarebbe questo qui con questa quantità sono nove sono più o meno nove cifre comunque un po' di più la cosa che ci interessa qual è noi ovviamente se non avessi la terra se non avessi la terra io potrei semplicemente renderizzare il sole e me lo renderizzerebbe qui in alto fondamentalmente e come colore mi farebbe object color mi farebbe qui devo fare int dovrei mettere tutto a int dovrei mettere tutto a int e mi farebbe il sole qui in alto che ovviamente non si vede bene quindi qui devo effettuare la trasformazione di coordinate che ho menzionato prima e qual è l'idea l'idea è che voglio portare il centro da qui lo voglio portare al centro dello schermo e questo lo posso fare in un modo abbastanza semplice che è il seguente prendo la coordinata e somma questa coordinata screen width diviso 2 per la coordinata x e screen height diviso 2 per la coordinata y facendo questa trasformazione io fondamentalmente che ho fatto ho portato il sole dall'estere qui in alto a sinistra nella posizione 0 0 adesso l'ho portato qui quindi adesso il centro dei miei punti è questo da notare quindi che adesso ho due tipi di coordinate diverse ho le coordinate che renderizzo e le coordinate su cui lavoro numericamente rispetto alle coordinate su cui lavoro numericamente il sole sta nella posizione 0 0 ma poi quando renderizzo queste coordinate a schermo il sole sta nella posizione che sarebbe 0 più screen width diviso 2 ora screen width qui non mi ricordo se era 900 800 se era 800 sarà 400 400 e questa trasformazione è utile proprio per centrare le robe rispetto al sole senza però dover lavorare con numeri eccessivamente grandi quando poi vado numericamente a calcolarmi le forze e questo è la prima cosa però non è l'unica cosa che devo fare perché perché ricordiamo quello che avevo menzionato ed è col sole non ho problemi ma nel momento in cui io voglio renderizzare la terra dato che io ho utilizzato la distanza effettiva tra la terra e il sole quindi la distanza reale tra la terra e il sole questo numero questo AU è un numero molto grande è un numero con un certo numero di cifre quindi io non posso utilizzare direttamente questa coordinata nello schermo perché perché se provo a lanciarlo lui mi dà un errore e lui fondamentalmente che cosa mi dice mi dice guarda questo numero è troppo grande per essere messo in un intero a 32 bit in particolare considerando i miei pixel che ho nella mia simulazione che sono 900x900 questo numero è troppo grande non lo riesco a visualizzare quindi devo effettuare una scalatura devo scalare le coordinate come voglio effettuare questa scalatura bene questa scalatura la voglio effettuare in questo modo voglio che ogni 250 pixel quindi ogni 250 pixel devono corrispondere in modo devono corrispondere fondamentalmente a una astronomical unit vuol dire che ogni volta che raggiungo questo valore cioè 149.6 elevato per 10 alla sesta per 1000 che sono fondamentalmente la effettiva distanza in metri tra la terra e il sole questo nel mio schermo lo rappresenterò in un modo molto più ristretto lo rappresenterò con 250 pixel vuol dire che 250 pixel della mia simulazione equivalgono alla distanza tra il sole e la terra per fare questo introduco un fattore di scala e l'ho introdotto in questo modo 250 diviso a u e questo mi sta definendo che una u è uguale a 250 pixel fondamentalmente questo fattore di scala come lo utilizzo? lo utilizzo andando a moltiplicare la coordinata prima ancora di aggiungere questo più screen width e più screen height io prendo la coordinata la moltipico per questo fattore di scala e a questo punto aggiungo lo screen width dello screen height e poi le visualizzo e poi le visualizzo se faccio questa cosa adesso che cosa succederà? adesso eseguo il mio main e notiamo cosa succede adesso sono in grado di visualizzare la terra e tra il centro della terra e il centro del sole ci sarà una distanza di 250 pixel nella mia versione scalata ma questa distanza di 250 pixel mi sta rappresentando nel mondo reale una astronomical unit che sono 149 eccetera milioni di chilometri e quindi questa è l'idea fondamentalmente quindi questo lo faccio e quindi a questo punto che cosa posso fare? posso direttamente definirmi come avevo fatto nel codice originale la scaled position scaled position come un vettore 2 che ha ovviamente due coordinate che sono la mia x in alto la prima e la mia x che è la seconda coordinata a questo punto io renderizzo il mio circle in modalità vettore che sarebbe draw circle v che è una funzione che non prende due coordinate in modo separato ma che prende un vettore e il vettore che prende sarà scale position quindi a questo punto io ho reso il codice un po' più strutturato e ho la stessa cosa di prima quindi vedo la terra e vedo il sole e li ho visualizzati in modo scalato però ovviamente adesso io li visualizzo ma stanno fermi non si muovono e adesso l'idea è di introdurre la gravità per andare non solo introdurremo la gravità quindi calcoleremo fondamentalmente la forza attrattiva che la terra sente verso il sole calcoleremo la forza attrattiva che il sole sente verso la terra perché la gravità agisce in due direzioni ogni volta quindi è una forza che ogni coppia di punti nello spazio sente verso diciamo verso ognuno verso l'altro in questa coppia e poi anderemo a calcolare come questa forza va a cambiare il modo dei pianeti e questo è tramite ripeto le leggi di newton sia le leggi del moto e sia poi la legge di gravitazione che è diciamo è stata trovata da newton ripeto intorno al 1600 quindi a questo punto ci occuperemo di implementare questa step simulation geforce ora questa funzione in realtà sarà calcolata in vari step come prima cosa noi ci calcoleremo fondamentalmente una lista di vettori forza e quindi questo lo chiameremo saved geforce vectors e questa lista la calcoliamo con la funzione compute geforce compute geforce vectors gli diamo la lista di oggetti e lui ci darà fondamentalmente per ogni oggetto per ogni oggetto ci darà un vettore della forza relativa a quell'oggetto e questo vettore di forza fondamentalmente che cosa contiene contiene la forza che quell'oggetto sente rispetto a tutti i pianeti vuol dire che se io per esempio ho un corpo e poi ho altri due corpi e io devo modificare le coordinate di questo punto di questo corpo lui ovviamente sarà tratto in parte dal corpo in alto e in parte dal corpo in basso queste forze ovviamente devono essere combinate devono essere sommate la somma di queste forze andrà a definire lo spostamento del corpo nello spazio quindi io mi calcolo per ogni corpo la somma di tutte le forze che tutti gli altri corpi esercitano su quel corpo e a questo punto poi la andrò ad applicare quindi faccio in due step prima è un calcolo di vettori forza e poi è un'applicazione di quei vettori forza quindi faccio new objects farò apply geforce vectors e al objects e al save da geforce vectors quindi prima mi calcolo e poi li faccio e qui poi ritorno new objects a questo punto qui devo definirmi due funzioni ovviamente che è la compute geforce vectors la prima e poi la seconda che è la def apply geforce vectors pass perfetto e quindi a questo punto noi che cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto che per andare a simulare la forza gravitazionale la facciamo in due step nel primo step andiamo a computare a calcolare i vettori che rappresentano le varie forze che vanno poi a essere esercitate sui vari oggetti della nostra simulazione quindi se noi abbiamo due oggetti tipo il sole e la terra qui avremmo due vettori forza il primo vettore forza sarà tutte le forze applicate al sole il secondo vettore forza saranno tutte le forze applicate alla terra quindi noi sommiamo tutte queste forze in un singolo vettore e poi una volta che abbiamo tutti questi vettori li andiamo ad applicare ai vari oggetti ai vari oggetti che abbiamo quindi implementiamo prima la seconda funzione apply geforce vectors che in realtà non ha molto a che fare col fatto che questa è una forza gravitazionale perché per implementare questa funzione utilizzeremo la seconda legge del moto scoperta da Newton che cosa dice? dice che esprime la relazione che sussiste tra la forza applicata ad un oggetto e l'accelerazione che quell'oggetto subisce che vuol dire? vuol dire che l'equazione fondamentalmente che ci dice la seconda legge del moto di Newton è f uguale m per a dove m è la massa dell'oggetto a è l'accelerazione dell'oggetto dove con accelerazione intendiamo il rate of change della velocity ovvero il cambiamento della velocità se stiamo accelerando vuol dire che la nostra velocità sta aumentando ed f è la forza applicata su quell'oggetto ora ripeto io non sono un fisico di fisica me ne intendo molto poco però fondamentalmente questa equazione che cosa ci dice? ci dice che se ad un corpo non applichiamo nessuna forza quel corpo non avrà accelerazione e se non ha accelerazione che cosa vuol dire? vuol dire che quel corpo ha una velocità costante ovvero la sua velocità non cambia se la velocità è 0 continuerà a rimanere fermo se la velocità è per esempio 5 km al secondo continuerà ad andare a 5 km al secondo nel momento in cui però quella velocità cambia è perché la sua accelerazione è cambiata e l'accelerazione la posso calcolare come la forza fratto la massa dato che noi abbiamo i vettori che rappresentano le varie forze applicate ai vari oggetti per ogni oggetto abbiamo una forza per calcolarmi l'accelerazione che quell'oggetto subisce dovrò prendere il vettore forza e dividerlo per la massa e questo mi darà il vettore dell'accelerazione a questo punto io dovrò utilizzare il vettore dell'accelerazione per andare a modificare la velocità e una volta che ho modificato la velocità dovrò andare a spostare la posizione dovrò andare a cambiare la posizione quindi l'idea è per quanto riguarda l'applicazione del vettore della forza che ho calcolati che cosa faccio faccio for i in range di tutti i pianeti fondamentalmente quindi lens di objects mi faccio un bel for con un iteratore mi vado a ritirare l'oggetto dal mio array quindi obj uguale objects di i a questo punto mi vado ad estrarre la forza quindi force uguale saved geforce vectors che ripeto però in realtà in questa funzione il fatto che siano forze gravitazionali non ci interessa perché qui potrebbe essere una forza generica una forza generale quindi qua posso fare apply force vectors quindi save geforce vectors qui va bene perché qui la sto calcolando come forza gravitazionale però nell'apply non mi interessa che tipo di forza è quindi mi prendo la forza e notiamo che qui utilizzo sempre la stessa coordinata in entrambe le liste no? perché come se avessi due liste e queste liste però una mi rappresenta gli oggetti e l'altra mi rappresenta il vettore che devo applicare a quel particolare oggetto perfetto a questo punto io devo applicare la forza all'oggetto quindi che cosa faccio? update velocity e poi faccio update position per calcolare la velocità io dovrò aggiornare la velocità dell'oggetto quindi faccio object velocity punto x e la sua velocità come cambierà? fondamentalmente io la devo aggiungere a questa velocità devo aggiungere che cosa? devo aggiungere l'accelerazione che quell'oggetto sta subendo perfetto questa accelerazione ripeto dalla seconda legge del moto di newton abbiamo che f è uguale a m per a quindi vuol dire che a è uguale ad f fratto m io conosco la massa conosco la forza applicata all'oggetto e quindi che faccio? bene faccio force punto x diviso obj punto mass e questo sarebbe tra virgolette la mia la mia quantità di moto che sto cambiando ora questo però non basta perché non basta? perché devo moltiplicare questo cambiamento per un time step time step e questo time step io vado su e me lo definisco come 24 per 3600 che vuol dire? vuol dire compute effect day by day cioè sto calcolando sto assumendo che il corpo ha quell'accelerazione per un giorno per un giorno interno quindi è come se io stessi fondamentalmente assumendo che io faccio l'update alla velocità dei corpi di giorno in giorno quindi all'inizio del giorno mi calcolo l'accelerazione assumo che durante tutto il giorno quell'accelerazione è costante e calcolo quanto quel corpo diciamo cambia velocità in quel giorno ora questo non è ovviamente preciso perché? perché in realtà i corpi cambiano diciamo accelerazione in ogni istante di tempo e gli istanti di tempo uno può andare in una grandezza infinitesimale in cui fondamentalmente ho una quantità continua di cambiamenti è come se avesse una curva continua di cambiamenti però io sto calcolando un'approssimazione quindi è come se io prendessi questo intervallo di tempo e dico ok per questo intervallo di tempo il valore dell'accelerazione è questo è fisso e quindi questo porta un'approssimazione che però ripeto non questa non vuole essere una computazione scientifica quindi il time step di giorno per giorno introduce degli errori ovviamente ma ci basta per questo piccolo esempio quindi fondamentalmente io faccio questo sia per x che per y faccio sia per x che per y e qui posso rendere il tutto più approssimato facendo un più uguale quindi più uguale e tolgo questa roba quindi ripeto moltiplico per questo time step perché sto assumendo che l'accelerazione in quel periodo temporale è costante e non cambia cosa che non è vera però sto assumendo come approssimazione questa cosa e questo mi permette di cambiare la velocità perché fondamentalmente la velocità l'accelerazione è il rapporto è il rate of change è quanto la velocità mi cambia e quindi questo è per quanto riguarda la velocità adesso che ho modificato la velocità devo modificare la posizione per modificare la posizione che faccio faccio obj position di x più uguale devo fare obj velocity di x per time step quindi stessa cosa di prima fondamentalmente quindi stessa cosa di prima moltiplico sempre per questo time step perché sto assumendo di fare l'update a questi intervalli discreti una volta che ho fatto queste update io posso aggiungere posso inserire all'intorno della mia lista di oggetti il nuovo oggetto aggiornato perché adesso questo nuovo oggetto avrà tutti questi valori aggiornati e quindi io poi lo vado a riscrivere nella lista nella posizione a questo punto io vado a ritornare la mia lista di oggetti perfetto e purtroppo questo non lo posso testare ovviamente perché? perché ancora devo calcolare la forza di questi vettori ma supponiamo magari che io qui ritorno che cosa ritorno? ritorno uno 0 per len di objects quindi che vuol dire? supponiamo che io ad ogni per ogni oggetto che ho nella mia simulazione gli applico un vettore di forza di 0 vuol dire che non applico nessuna forza lui qua avrà tutta una serie di 0 quando lui fa questa moltiplicazione qui sarà tutto a 0 quindi la sua velocità non cambierà di niente e conseguentemente la posizione andrà come andava prima cioè dato che la velocità è costante in questo caso quindi se prima la velocità era per esempio 2 metri al secondo la posizione si continuerà ad aggiornare come 2 metri al secondo quindi fondamentalmente questa è l'idea e quindi se noi facciamo questa cosa vediamo un po' che succede io faccio non dovrebbe cambiare nulla fondamentalmente perché? perché faccio new main mi fa ddumin save geforce vectors quindi faccio force uguale vediamo un po' qui save force vectors no geforce vectors quindi questo è quanto force vector force vector qui ok e poi faccio velocity force x giusto perché questi devono essere vettori quindi vector 2 vector 2 vector 2 di 0 0 quindi perché devono essere dei vettori perché io prima avevo messo tutti i 0 ma in realtà devono essere dei vettori perché la forza ha due diciamo coordinate che sono la x e la y per i due assi della forza nel mio piano duodimensionale come possiamo vedere calcoliamo questo vettore della forza ma è sempre 0 e quindi la velocità di questi oggetti non cambia supponiamo adesso di mettere una velocità iniziale quindi supponiamo qui che io per esempio alla terra do una velocità di per esempio 1 anzi facciamo 1 nell'asse delle y ok cosa succederà succederà che fondamentalmente allora qui cosa succede qui succede che allora questa è la velocità di earth e qui ovviamente se io faccio 0 1 non cambia nulla perché mi sto muovendo a un metro al secondo ma la scala qui è da diciamo utilizzare quella reale quindi lo spostamento fondamentalmente è impercettibile se invece qui metto per esempio mille metri al secondo diventa comincia a diventare già più percettibile quindi ho questa roba se io metto per esempio supponiamo la velocità di mercurio mercuri la velocità per come gira intorno alla terra che sarebbe questa min orbital velocity che sarebbe 47.36 km al secondo quindi 47.36 per mille comincia ad avere una velocità interessante che però non viene attratto dal sole perché è semplicemente costante verso il basso perché continua ad aumentare e basta qui possiamo mettere direttamente la velocità della terra a questo punto quindi facciamo earth andiamo su min orbital velocity che è 28.78 che sarebbe la velocità di orbita che la terra ha intorno al sole che sarebbe questa però ovviamente in questo caso io non ho nessun tipo di forza attrattiva verso il sole e quindi questa velocità lui semplicemente continua ad andare in basso adesso che implementeremo la vera diciamo gravità quello che succederà è che il moto prima che andava verso il basso sarà spostato verso destra dalla diciamo dalla trazione verso il sole e questo spostamento verso destra porterà poi a questa orbita a questa orbita abbastanza stabile e quindi a questo punto l'unica cosa che ci manca per completare la nostra simulazione è calcolare questi vettori di forza che rappresenteranno come la gravità agisce su ogni corpo a tale fine è utile ripassare appunto come funziona questa forza di attrazione gravitazionale bene questa forza è stata scoperta da newton intorno al 1700 ed è stato un fantastico un estremamente importante passo avanti nella fisica che poi ha portato anche all'era moderna e fondamentalmente newton anche rispetto ad osservazioni fatti da altri fisici da altri matematici tra cui Keplero ha capito ha intuito e poi ha formalizzato matematicamente il fatto che la forza che agisce su un corpo che permette per esempio ad una mela di cadere e quindi essere attratta dal centro della terra quindi questo tipo di comportamento la forza attrattiva che la terra ha su una mela è la stessa forza che sente la terra quando gira intorno al sole cioè che permette che porta la terra ad orbitare il sole e che porta la luna ad orbitare la terra e via dicendo quindi fondamentalmente newton ha unificato questa legge e ha detto che tutti questi fenomeni che potrebbero essere diversi che potrebbero essere sottoposti a fenomeni diversi a forze diverse in realtà sono sottoposti alla stessa forza e non solo ha osservato questa cosa ma l'ha formalizzata in modo matematico con una formula numerica abbastanza semplice e assolutamente affascinante che cosa ci dice newton supponiamo di avere due corpi quindi questo è il corpo 1 che noi chiameremo earth perché sarebbe la terra e questo è il corpo 2 che chiameremo sun perché sarà il sole ciascuno di questi corpi ha una massa quindi m1 ed m2 perfetto e questi corpi sono distanti nello spazio da una distanza chiamiamola r newton che cosa ci dice bene newton ci dice che la magnitudine della forza ovvero la quantità che la forza esercita su questi corpi rispetto alla gravità quindi la forza gravitazionale è f uguale g che è una costante gravitazionale quindi questa g è una costante vuol dire che è un numero fisso è un numero dell'universo costante gravitazionale gravitazionale e questa forza è g per la massa il prodotto delle masse m1 per m2 fratto la distanza al quadrato questa è la forza gravitazionale ora in fisica una forza ha due dato che la forza è un vettore fondamentalmente una forza ha due cose interessanti che sono la magnitudine e la direzione e la direzione perché la forza è un vettore quindi la forza fondamentalmente è una freccia la forza è un vettore ora questa è la magnitudine della forza poi c'è anche la direzione e per quanto riguarda la forza gravitazionale è una forza attrattiva e quindi vuol dire che se un corpo diciamo sente diciamo ogni coppia di punti nello spazio ogni coppia di corpi sente la forza quindi abbiamo m1 e m2 quindi m1 sentirà una forza attrattiva da m2 ma viceversa m1 diciamo eserciterà una sua forza attrattiva rispetto ad m2 quindi è come se m1 è attratto da m2 ed m2 è attratto da m1 quindi entrambi agiscono sull'altro sull'altro corpo con la stessa magnitudine ma con una direzione opposta che vuol dire vuol dire che se qui per esempio ho il sole e qui ho la terra la terra sarà attratta dal sole ma il sole pure sarà attratto dalla terra e il modo in cui sono la quantità di forza con cui sono attratti è data da questa formula che è stata un grande contributo di newton e avevo mi sembra già menzionato prima che anche se entrambi sono attratti da questa da questa forza ovviamente ricordandoci la seconda legge del modo di newton che ci dice che l'accelerazione subita da un corpo è data dalla forza fratto la massa e vuol dire che a seconda della differenza della massa dei due corpi avrò che un corpo accelera un po' di più oppure un po' di meno dato che il sole ha una massa estremamente grande rispetto alla terra anche se il sole è attratto dalla terra con la stessa forza l'accelerazione che subirà sarà fondamentalmente nulla sarà vicina allo zero e quindi sarà non significativa o comunque non la percepiamo in un certo senso avrà un effetto molto minimale rispetto a quello che la terra subisce quindi mentre la terra entra in orbita verso il sole in realtà anche il sole sarebbe in orbita verso la terra anche il sole sarebbe attrattuto dalla terra solo che la quantità di moto di questa di questa accelerazione sentita dal sole è assai minore di quella sentita dalla terra ora la cosa che ci interessa dal nostro punto di vista per implementare questa simulazione è la seguente io ho una serie di punti nello spazio che rappresentano i miei pianeti ma potrebbero essere oggetti generali non necessariamente i pianeti io ho fatto l'esempio del sistema solare perché era carino ma uno potrebbe mettere punti nello spazio e per quanto abbiamo detto Newton che ci dice ci dice che ogni coppia di punti attrae ed è attratta tramite la gravità quindi per esempio ho questo punto e questo punto questi punti ciascuna è una massa hanno una distanza e posso calcolare la gravità la forza attrattiva questa è la distanza r per g questo è il modo in cui questi corpi si attraggono ciascuno in una direzione diversa quindi nella mia simulazione io adesso che dovrei fare? dovrei prendere ogni coppia di punti calcolarmi questo vettore di forza e fondamentalmente che cosa avrò? io avrò un for loop in cui io vado per ogni elemento per ogni pallino della mia simulazione tipo supponiamo di considerare questo pallino io dovrò calcolare il modo in cui tutte lui è attratto per esempio a questo punto è attratto a quest'altro 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 punto vuol dire che dovrò calcolare tutti questi vettori di forza rispetto a tutti gli altri corpi questi vettori di forza li sommerò e questo mi permetterà di capire il vettore di forza finale a cui quel corpo sarà sottoposto e quindi questo sarà il mio approccio c'è da dire però che in termine computazionale questo non è affatto il modo migliore questo è uno dei modi più semplici è uno dei modi peggiori tra virgolette se uno vuole fare una simulazione scientifica che non è il mio interesse questo perché perché dal punto di vista di costo in termine di numero di istruzioni che io vado ad eseguire questo procedimento richiederebbe che se io ho per esempio 5 corpi io dovrei fare 25 calcoli perché per ogni coppia dovrei fare un calcolo e anche se è vero che in realtà non lo devo fare esattamente per ogni coppia perché la forza è simmetrica e quindi il momento in cui io calcolo la forza da lui da questo di sinistra a questo di destra la forza opposta è letteralmente meno quella di prima quindi è come se avesse una direzione flippata ma la magnitudine resta la stessa quindi in realtà non mi serve fare esattamente n quadro calcoli ma ne posso fare di meno comunque fondamentalmente se io ho n corpi dovrò fare n per n meno 1 fratto 2 computazioni e questo nella notazione che si utilizza in informatica è uno grande di n quadro in poche parole per chi appunto non conoscesse questa notazione implementare questo calcolo di gravità in questo modo in cui vado a calcolare la gravità che ogni corpo agisce su ogni altro è semplicemente inefficiente non è efficiente e non è scalabile vuol dire che io magari questo tipo di calcolo lo posso fare se sto parlando di 100 corpi di 200 corpi magari di 500 corpi ma se io sono uno scienziato un astrofisico e voglio studiare come si sono formate le galassie dove le galassie sono fatte di un sacco di corpi un sacco di pianeti me ne servono molti di più e quindi questo approccio computazionale non funzionerà più detto questo in informatica ci sono approcci molto più sofisticati di quello che farò vedere che cercano di non calcolare la gravità esatta per come si manifesta ma di approssimarla con un errore abbastanza piccolo da rendere simulazioni molto più scalabili ed efficienti senza però peggiorare la qualità del risultato quindi è come se uno pagasse in accuratezza ma se quel costo in accuratezza è abbastanza piccolo e invece il risparmio in velocità è abbastanza grande mi può convenire quindi tutto questo preambolo è per dire il modo in cui calcoleremo questa formula diciamo questa formula per ogni coppia non è quello più efficiente però è quello che faremo perché appunto è un primo passo quindi come faccio a fare questa cosa allora come prima cosa devo definire la mia costante gravitazionale quella che qui ho chiamato questa G costante gravitazionale che cos'è questa G? bene questa G fondamentalmente è questa G è una costante 6 per 6 7 4 2 8 e alla meno 11 e questo è gravitational constant G e rispetto all'unità di misura questa cosa è metri al cubo per kg alla meno 1 per secondi alla meno 2 quindi queste sono le unità di misura di questa quantità non chiedetemi il perché appunto non sono necessariamente non sono un fisico però fondamentalmente questa è l'idea quindi questa è la nostra costante a questo punto noi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo ci facciamo fondamentalmente saved geforce vectors ci facciamo un insieme di vettori che inizialmente sono tutti definiti a 0 vector 2 0 per len di objects una serie di vettori e poi questi sono quelli che ritorniamo alla fine e per adesso questi li dobbiamo riempire di robe interessanti come facciamo a riempirli? bene come ho detto il nostro approccio sarà abbiamo una serie di punti perfetto a questo punto noi andiamo a diterare di ciascun punto della nostra simulazione quindi supponiamo di scegliere lui a questo punto ci andiamo a calcolare come tutti gli altri punti attraggono questo punto rispetto alla gravitazione quindi come per esempio questo punto in alto attrae questo punto quindi come questo punto è spostato verso quel punto e poi verso quest'altro 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 punto e a questo punto noi sommiamo tutti questi vettori di forza E una volta sommati possiamo applicare quello che abbiamo fatto prima per applicare il vettore di forza, cambiare la velocità e cambiare la posizione Quindi faccio for i in range 0 lendi objects, faccio obj uguale objects di i, faccio total geforce uguale vector 2 di 0,0 E poi faccio for other in, quindi for other obj in objects, quindi per altro oggetto, altro object Diciamo se if obj is other obj, continuo, e qui metto skip body own gravitational pull towards itself Quindi skip body gravitational pull towards itself nel senso che noi non vogliamo, non siamo interessati al modo in cui il corpo attira se stesso gravitazionalmente Perché questo non è un caso della teoria di Newton, non ci interessa, ma ci interessano le forze che tutti gli altri oggetti hanno su questo oggetto Quindi poi facciamo geforce vector e facciamo compute geforce vector e facciamo fornamente obj other obj Quindi obj other obj, e quindi questo è il vettore che rappresenta la forza gravitazionale tra che other obj impone su obj Cioè il modo in cui questo altro oggetto attira l'oggetto a cui siamo interessati in questa iterazione E poi total geforce, quindi total geforce qui inizialmente me l'avevo definita 0 Perché questa total geforce sarà il vettore di forza totale per questo particolare oggetto in questa particolare iterazione del for loop E quindi poi faccio questo e faccio fondamentalmente vector2 add per dire aggiungimelo E faccio total geforce e poi faccio geforce vec Quindi io sto calcolando il vettore che mi rappresenta la forza gravitazionale tra questo specifico other object e il mio obj iniziale E li sto sommando per tutti gli other objects A questo punto poi questo total geforce me lo metto come saved geforce Vectors di i Total geforce Geforce E poi lo ritorno Quindi qua sto sommando dei vettori no? Perché appunto io ho il mio oggetto fondamentalmente Quindi ho due altri Io dovrò calcolare come lui ha tratto da questo e come lui ha tratto da quest'altro E poi però dovrò sommare questi vettori E nella somma fondamentalmente la somma si fa con questo tipo di parallelepipedo E quindi questa sarà la somma dei vettori Però fondamentalmente a noi non ci interessa un punto di vista geometrico Ci interessa da un punto di vista computazionale Quindi l'ultima funzione che devo implementare È quella che andrà proprio ad implementare la formula di Newton Quindi object other object E qui li divido perché io devo capire bene la posizione Cioè chi sta agendo su quale oggetto E in questo caso io voglio la forza che OBJ sente verso other OBJ Quindi qua la direzione è verso other OBJ E quindi io per fare questa cosa dal punto di vista matematico Come faccio? Fondamentalmente io mi devo mettere qui Come global G La costante gravitazionale che utilizzerò per il calcolo Poi faccio il vettore della distanza come vector2 E questo vettore lo calcolo come Other OBJ position.x Meno OBJ.position.x Ovvero qui sto calcolando fondamentalmente il vettore di distanza Dove metto come prima coordinata quella dell'other OBJ E come seconda coordinata quello dell'x Vuol dire che sia il mio piano cartesiano Questo è x e questo è y Supponiamo che questo sia other OBJ Quindi questo è other OBJ E questo è OBJ Questo è il mio vettore Io ho questo vettore other OBJ E questo vettore che sarebbe OBJ A questo punto io che sto facendo? Sto calcolando il vettore di distanza che sarebbe fondamentalmente questo Sto calcolando questo vettore E il modo in cui other OBJ agisce su OBJ Prendere la radice quadrata Quindi mass square root Di che cosa? Delle coordinate x del vettore moltiplicate per se stesse Quindi R vec di x Più le coordinate y del vettore R vec di y Per R vec di y Quindi questa è la magnitude del vettore A questo punto sono in grado di calcolarmi la cosa di Newton Perché la cosa di Newton qual era? La forza La magnitude della forza è G Per M1 Per M2 Fratto R al quadrato Ora Quindi che cosa devo fare? Devo fare Force magnitude La magnitude è G Force magnitude della forza gravitazionale È G Costante gravitazionale Per OBJ.mass La massa che sarebbe M1 Per Other OBJ.mass Punto mass Diviso per R magnitude Per R mag Diviso per R al quadrato Dove R è la magnitude della distanza Infine Per calcolarmi fondamentalmente la direzione corretta di questa forza Altrimenti la simulazione non funziona Mi calcolo il unit vector In questo modo Vector 2 Faccio R vec Normalizzo fondamentalmente il vettore Quindi faccio questo diviso R mag R vec y diviso R mag Questa è un'operazione di normalizzazione tra vettori Che mi serve per determinare fondamentalmente la direzione La direzione di questo vettore Quindi solo la direzione Così che questo vettore avrà una magnitude 1 Non mi interessa la magnitude Mi interessa la posizione E infine io dovrò ritornare un vector 2 Che però è scalato di fondamentalmente R unique vec Che è la direzione mi interesse Per force mag Quindi la direzione mi darà la direzione corretta della forza E questa sarà la magnitude della forza E quindi questo sarà il vettore della forza Ora se ho implementato tutto correttamente Che cosa dovrebbe accadere? Bene Dato che la velocità della terra è 0,0 La terra si dovrebbe schiantare contro il sole Vediamo un po' Lui mi dice che mat is not defined Perché devo fare un import mat Ah e qui mettiamo anche lo shebang È importante mettere lo shebang Lo sto mettendo alla fine ma va bene così Io faccio così E fondamentalmente force mag Allora abbiamo geforce mag giusto Perché non è force mag Force mag ma è geforce mag Quindi questo qui geforce mag Perfetto Come possiamo vedere cosa sta succedendo Cosa è successo? Fondamentalmente adesso la terra sta sentendo la gravitazione rispetto al sole Verso il sole Perché abbiamo calcolato il vettore della forza Ma la terra inizialmente non ha velocità Quindi lui parte da fermo A questo punto lui sente la gravitazione verso il sole Quindi la sua accelerazione cambia verso il sole Questo fa cambiare la sua velocità Che fa cambiare la sua posizione Ma dato che prima era fermo Adesso lui si muove solo verso il sole Non verso qualcos'altro Solo verso il sole Quindi lui continuerà ad andare sempre più vicino al sole Sempre più vicino al sole A un certo punto la mia simulazione si rompe E perché si rompe? Perché si arriva a un punto in cui sole e terra Si trovano a distanza zero E quando si trovano a distanza zero La loro distanza è zero E la forza di gravitazione newton Era diviso il quadrato della distanza Quindi questo fondamentalmente è diviso zero Che è un numero estremamente grande In realtà questo non è un numero definito Ma se è 0.001 Questo diventa un numero enorme E quindi il pianeta parte E viene come se viene espulso dal sole ad una velocità enorme Per questo ha questo effetto boom Di una specie di molla Che però questo ovviamente non sta rappresentando la realtà Perché nella realtà fisica Nel momento in cui il sole si avvicina Nel momento in cui la terra si avvicina al sole A un certo punto c'è una collisione Entrano in gioco delle altre forze dell'universo Che sono appunto le forze degli atomi E tutta una serie di cose che non conosco Ma fondamentalmente non ci può essere Che arrivano a una distanza zero sole e terra E quindi questo non va bene Ora noi non andremo ad implementare le collisioni Magari quelle in un prossimo video in cui parlerò di fisica Però per sistemare questo problema Ritorniamo al concetto della velocità Adesso dovremmo mettere una velocità nell'asse delle y La velocità a livello delle y E in particolare mettiamo la velocità di 28.78 per 1000 E adesso che cosa succederà? Il sole andava giù Se non ci fosse La terra andrebbe giù Se non ci fosse il sole Mettendo il sole La terra aveva il suo modo verso giù Ma adesso si sente attratta gravitazionalmente dal sole E quindi il suo modo entrerà in questa orbita Vediamo se l'ho implementato correttamente Notiamo che c'è questa orbita C'è questa orbita E quindi fondamentalmente Che cosa sta facendo il sole? La terra adesso sta orbitando attorno al sole È questa una rappresentazione perfetta dell'orbita? Assolutamente no Come ho detto ci sono tutta una serie di problematiche Sia a livello numerico sia a livello proprio computazionale del modo in cui facciamo i calcoli eccetera eccetera È pieno di problematiche questa simulazione Però fondamentalmente abbiamo simulato con un sacco di errori il modo in cui la terra orbita il sole Per esempio se io qui mettevo soltanto una velocità nell'asse delle x Tipo meno 2 Fondamentalmente Quello che accadeva è che comunque lui sarebbe attratto dal sole Quindi per avere una gravità La terra all'inizio quando si è formata Aveva comunque una velocità orbitale Aveva comunque una velocità nell'asse non dove veniva attratto dal sole Comunque aveva una velocità propria E questa velocità propria le ha permesso di entrare in orbita Altrimenti si schiantava contro il sole e basta E quindi questo per quanto riguarda questa situazione Dopodiché Quindi abbiamo questa roba Dopodiché per esempio se io cambio Una cosa interessante da sperimentare è Se io cambio ovviamente Vabbè se io cambio questa scala Io posso mettere tipo 150 E quindi la terra sarà più vicina al sole 250 mi sembra una giusta distanza fondamentalmente E quindi questa è tra virgolette È quasi tutto per quanto riguarda il nostro programmino Quindi questo è 6.67428 6.67428 e almeno 11 Perfetto Questa è la distanza Perfetto Tutto questo dovrebbe essere corretto Se poi ho fatto problemi Fatemelo assolutamente sapere Questo è il calcolo Se io qui per esempio Vado a cambiare il segno della forza La forza non sarà più attrattiva Ma sarà repulsiva Infatti se andiamo a vedere A questo punto La terra viene espulsa Viene repulsa dal sole Non viene attratta dal sole Quindi se noi abbiamo fatto male dei calcoli E abbiamo fondamentalmente calcolato male la direzione Avremmo questo tipo di roba Una forza repulsiva piuttosto che attrattiva Ma la forza gravitazionale è attrattiva Quindi questo è importante Per finire direi Per finire in grandezza Due cose ci mancano da fare È la velocità L'abbiamo aggiunta Adesso dobbiamo aggiungere Gli altri pianeti E poi dobbiamo fare Il rendering delle path Ovvero il rendering delle orbite Quindi Allora per quanto riguarda Gli altri pianeti Noi che cosa metteremo? Metteremo Mercury Venus Earth E Mars Quindi ci fermeremo a Marte Perché questo? Perché Jupiter fondamentalmente Se noi andiamo a vedere La distanza che Jupiter ha Fondamentalmente È 5 volte Sarebbe 5 per Assolutamente 5.2 E questo rispetto ai pixel È troppo Quindi Frente Jupiter diventa Non riusciamo a rappresentarlo bene O comunque la sua orbita Non la riusciamo a rappresentare Quindi poi da Jupiter Saturno eccetera Dato che io comunque voglio fare Le distanze in scala Tutti questi altri poi Magari li rappresenteremo In un altro video Con altre tecniche Per andare a utilizzare Una camera un po' più dinamica Quindi per quanto riguarda Quindi iniziamo Abbiamo fondamentalmente Mercury Mercury Quindi abbiamo Mercury Questo lo facciamo Un Mercury sarà un light grey Fondamentalmente Quindi sarà un Light grey Light grey Il suo raggio Sarà di 5 Sarà di 5 La sua massa Sarà di 0.330 Per 1 E alla 24 Oppure 3.30 Per 1 E alla 23 Poi abbiamo Quindi possiamo fare anche Così E alla 24 E alla 23 E alla 24 Sono le masse Dei due pianeti Perfetto A questo punto Ci interessa La distanza Di Mercury Dal sole Rispetto a Questo qui Ratio Mercury Earth Quindi sono Meno 3 0.387 Per Semi 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 Major Axis Dovrebbe essere Questa E poi La velocità Che sarebbe Il Mean Orbital Velocity Di Mercury E 47.36 Quindi 47.36 Quindi 47.36 E qui magari alla terra Li mettiamo il meno Per farlo andare Nella direzione opposta Che vuol dire Vuol dire che Così facendo La terra va in alto Se io li metto Il più La terra va in basso Ma queste sono cose Che hanno a che fare Con Relib Poi ripeto Non so precisamente La direzione in cui La terra sta andando In questo momento Però fondamentalmente Questa è l'idea Quindi mettiamo Mercury Nella nostra simulazione Mercury Abbiamo Sun Earth E Mercury Come objects E che cosa abbiamo Abbiamo non Mercury Qui Allora Mercury Mercury E abbiamo Mercury Quindi qua Quindi abbiamo Questo terzo Giuggetto Perfetto Che ovviamente È un'orbita Molto più veloce Perché è molto più vicino Al sole E ha una massa Molto più piccola Quindi è accelerato Molto di più Dalla forza gravitazionale Dopodiché Continuando Troviamo Venus Quindi abbiamo Venus Quindi abbiamo Venus La massa di Venus Quant'è? È 4.87 E alla 24 Abbiamo che La distanza Tra fondamentalmente Distanza Rispetto alla terra È questo rapporto Quindi 0 Punto per AU Va bene E poi abbiamo Che la Mino Orbital Velocity È 35 Quindi 35 Perfetto Il raggio di Venus Lo mettiamo Fondamentalmente A 15 A 15 Il colore a red E il nome a Venus Quindi questi sono Per adesso I nostri tre pianeti Quindi abbiamo Fondamentalmente Sun Mercury Quindi Mercury Venus Ed Earth Quindi se adesso Faccio Python Abbiamo Abbiamo questi pianeti Che sono Mercury Venus Earth Quindi abbiamo I tre pianeti Che orbitano Attorno al sole E l'ultimo pianeta È Mars Ovvero è Marte Mars Con una massa Di fondamentalmente Abbiamo Mars Questa qui Quindi questo Che sarebbe 6.42 E alla 23 Abbiamo che La distanza Tra Marte e la Luna Rispetto ovviamente All'apporto della terra È 1.25 Quindi è 1.524 Rispetto Poi il meno Il più È se è a destra O a sinistra Ma quello ci interessa Di meno Quello 1 Ci può giocare La Min Orbital Velocity È di 24.08 24.08 Kilometri al secondo Quindi questi Sono per mille Metri al secondo Mars Lo facciamo sempre Red Direi E qua facciamo Mars E il raggio Di Marte Lo facciamo Di 13 Di 13 Anzi magari Mars lo facciamo Brown Più tipo da deserto Quindi facciamo Mars E abbiamo Fondamentalmente Quasi finito Perché a questo punto Abbiamo i nostri 4 pianeti E quindi questo È il moto Dei pianeti A questo punto Però è carino Cercare di andare A disegnare L'orbita Che questi pianeti Hanno Mentre girano Intorno al sole E per disegnare L'orbita L'idea è quella Di utilizzare Una nuova feature Di reliba Che sono le texture Quindi qua Mi faccio Un'altra funzione Render Path E quindi che faccio Faccio planets E metto Una path Texture Ovvero una texture Che contiene Soltanto le Traiettorie Dei vari pianeti Quindi questa cosa La posso pure eliminare Per adesso Perché non mi interessa Qui mi vado A dichiarare La mia path texture Load Render texture E metto Tutto lo schermo Tutto lo schermo Su cui voglio disegnare Quindi screen With screen height Poi faccio Poi faccio un Begin texture Mode Path texture E faccio un Clear background Semplicemente per Diciamo Pulirla Texture Texture Mode And texture Mode Quindi questo è Lo texture Perfetto A questo punto Devo implementare Questo render path Ovviamente Quindi faccio Render object Render path Object path Texture E qui che cosa Devo fare Bene L'idea è che In questo momento A me mi interessa Allora qui faccio Un begin Perché inizio A scrivere La mia texture Anzi qui posso Semplicemente mettere Texture e basta Qui faccio Una end texture Mode All'interno Posso scrivere Sulla mia texture Che è come se fosse Questo blocco Che viene renderizzato A parte dal main screen E in questo blocco Che devo fare Devo iterare Tutti gli oggetti Faccio for Obj in object Mi vado a calcolare Le posizioni scalate Del mio vettore Esattamente come ho fatto Qui in basso Fondamentalmente Però a questo punto Io qui non voglio Disegnare il pianeta Perché il pianeta Lo disegno dopo Quello che mi interessa Disegnare È un puntino Draw Pixel Vector Scaled Pos E lo disegno Di bianco A questo punto Quindi ho disegnato Per ogni Per l'attuale posizione Del mio pianeta Un puntino Però questo puntino Poi lo devo disegnare Nella texture Cioè l'intera texture Qua l'ho disegnato Nella texture E va bene Però la texture Non è visibile Direttamente Nel buffer Che mi renderizza Proprio Relib L'applicazione finale Perché Allora qui mi sa che ho fatto Un planets Di troppo Vediamo un po' Non era qui Era Qui non era planets Ma era objects Era object E qui fondamentalmente Scale pos Scale pos Scale position Sarebbe scale position Scale position Ovviamente Io qui non vedo Questi paths Non vedo Queste Queste orbite Perché Perché Le ho disegnate Nella texture Ma adesso Io devo disegnare La texture Sopra La schermata Dello schermo finale E quindi fondamentalmente Quello che devo fare È un'ultima chiamata Questa chiamata È alla funzione Draw Texture Rec Texture.texture Poi metto Un rectangle Rectangle 00 Texture.texture.width E Meno Texture.texture.height E poi faccio Vector2 00 Tutto white Quindi questo Mi va a disegnare La texture Su un particolare Rettangolo A partire da Una posizione Iniziale Che sarebbe La 00 Fondamentalmente Che cosa andrò a fare A livello operativo Vado a scrivere Su tutto lo schermo Prima le orbite Dei vari pianeti E poi i pianeti Perché io prima Chiamo render path E poi chiamo render objects Quindi Alla fine Così facendo Io lo invio E dico Mi sono dimenticato Un comma Giusto Quindi qua Devo mettere Un virgola Dopo rectangle Io chiamo Questa roba E fondamentalmente Ho l'orbita Del pianeta Se poi Se poi Metto Perché qui avevo Tolto per fare Del debugging Venus Earth E Mars Metto tutti quanti Ho le mie orbite Fondamentalmente Che poi ovviamente Posso controllare La direzione Dell'orbita Cioè si fa verso sinistra O verso destra Posso controllare La scala Perché questa è una scala Di 250 pixel Per assolutamente Megalunit La posso fare molto più vicina 100 pixel Ma questo vuol dire Che saranno Molto vicini al sole La posso fare Molto lontana Tipo 400 pixel Ma vuol dire Che magari Marte non si vedrà E infatti Marte qui Non si vede Bene Fondamentalmente Questa è L'idea Mi ero finito Per 250 Secondo me va bene Come scala È una scala Ok E un'altra cosa Che magari possiamo cambiare Al posto di disegnare Un solo pixel Per segnalare La posizione Potremmo Possiamo disegnare Un circle Un circle Di size Magari 1.5 White Per dare un effettino Di patta Un po' più Diciamo Un po' più Rimarcato E quindi questo È fondamentalmente L'idea Dopodiché io posso Mettere qui 1920 E 1080 Invio Lo metto al centro E queste sono Appunto Le orbite Dei primi pianeti Del sistema solare Non sono tutti i pianeti Ripeto Perché poi Le astronomical unit Tendono ad andare Troppo lontano Perché le orbite Diventano molto ellittiche Ovviamente qui Le orbite Sono ellittiche Magari ad occhio Sembrano cerchi Ma non sono cerchi Sono comunque ellittiche Ripeto Non è una simulazione Scientifica Però questo È un modo In cui poter simulare Questo tipo di cose Poi ovviamente C'è stato Einstein Con la teoria Della relatività Che ovviamente È stato un upgrade Della teoria Della gravità Che è un modello Molto più potente Per spiegare Molti più fenomeni Però fondamentalmente La gravità Basta A parte ovviamente Errore di approssimazione Per simulare Questo tipo di moto Come abbiamo imparato Fondamentalmente La terra Gira attorno Il sole Perché Stava andando Giù Aveva una certa Velocità Poi è stata Tratta dal sole Ma la velocità Che aveva Lo ha messo In questo moto Costante In realtà Anche il sole È attratto Dai vari pianeti Ma la massa Del sole È talmente Grande Che l'accelerazione Sentita dal sole È essenzialmente Zero Comunque È molto piccola E quindi Questa è l'idea Spero che il video Sia stato interessante Spero che sia interessante Anche trattare Tematiche di fisica Che è la prima volta Che l'ho portata Nel canale E io stesso Comunque sono ignorante Su queste cose Quindi Se avete suggerimenti Scrivetemeli pure Nei commenti In futuro Magari porterò Altre simulazioni Magari porterò Simulazioni Più avanzate Per calcolare Questo tipo Di effetti Gravitazionali Tra corpi Perché fondamentalmente Questo è il problema N body problem Il problema di simulare La gravità tra N body N body problem E sono dei problemi Informatici E computazionali Affascinanti Che fanno utilizzo Di strutture dati Molto molto interessanti Poi comunque Ne posso parlare Perché fondamentalmente L'idea Le idee un po' più avanzate Quali sono Non vado a calcolare La gravità Per ogni coppia Ma divido La mia griglia In sezioni E fondamentalmente Se ho due Se per esempio Devo calcolare L'effetto Della gravità Tra questo corpo E corpi Di un'altra sezione Fondamentalmente Io posso raggruppare Corpi tra loro E pensarli Come se fossero Un singolo corpo E calcolare La gravità Tra lui E il centro Di massa Di questo insieme Di corpi Dato che la distanza È elevata Le differenze Di massa E di posizione Dei singoli corpi Non impattano Se invece Sono vicino Al mio oggetto Anche leggere Differenze Di posizioni Potrebbero impattare Perché a questo punto Ricordiamo che Appunto Nella legge C'è diviso R al quadrato Oltre le masse Quindi vuol dire Che se la distanza È grande Questo R al quadrato Un pochino Smorsa tutto Tra virgolette Rende tutto piccolo Ma se R è piccolo Questi cambiamenti Potrebbero essere impattanti Quindi ci sono Delle strutture date Un po' più sofisticate Che magari potremmo vedere Comunque Ho già parlato abbastanza Questo termina il video Lasciatemi Del feedback Dei commenti E al prossimo video E tra l'altro Per terminare Diciamo È affascinante Come il nostro universo Segua queste Leggi matematiche Per quanto siano Approssimazioni Della realtà Comunque Siamo in grado Di descrivere Con un buon grado Di errore Con un buon grado Di approssimazioni Il moto Dei pianeti Nel sistema solare E nell'universo E nell'universo